buonasera buongiorno anza paolo di youtube questa è la visione che avevo dato su quegli altri due ruote quindi se volete da potete tranquillamente continuare a giocare su quegli altri due ruote vabbè detto ciò andiamo un attimo che sistema cellulare come si deve si sono state molte previsioni in uscita quindi 50 le 80 l'uno dei due ambiti e pd sulle due ruote il 28 e 90 la tria del 770 regalata sull'altro social i due gambata colpo su ruota unica e poi 50 re 80 ma che fa la posse è venuto fuori con 28 e 90 90 aveva dato a colpo il 50 di ovviamente non c'è di una semplicità a primo colpo ci guarda lei che non diamo sia primo giusto eccolo qua quando molti di una cosa serve la tecnica dei numeretti e serve come abbinamento ecco qua 4 giugno milano napoli io ho dato il 90 su milano ma non è che poi era tanto difficile beccare il 50 reno ma ok ovviamente queste sono le valutazioni che fanno le persone quando c'è un attimo che devo vedere se riesco a sistemare quest'altro cavalletto sembra che ci riesco se eccolo più o meno non è proprio però va bene quindi andiamo a vedere un attimino questo è 90 regalato a colpo su bar e minano belle quando l'inter fatto proprio come quando una volta arrivavano i fax ecco qua va di minano 90 va riminano 90 poi 81 90 660 cagliari firenze nuova tecnica dell'euro 81 90 genova e milano e due estratto a colpo una mia nuova tecnica solo di base e quindi abbiamo finito con le foto che non ho potuto non ho avuto il tempo di trascrivere le dediche su come faccio ogni po a volte mi manda loro mi scrivono i messaggi io li riporto appena sulle vincite ma adesso perché vi dico questa il lanotto poi andare l'amo della stessa decine non posso parlare delle vincite per ancora non è stato consegnato a chi che sia il pianotto invece ha colpito il 2 a colpo viene da questo muscolo quali ovviamente sapete non è non è in vendita dopo parliamo di quello che ha colpito l'ambo che non perdò e qui ci sono i vari opuscoli ok c'è anche un'altra condizione dell'ambo uguale io vi ricordo quello che c'è poi le persone quello che vogliono giocare giustamente giocano 15 quando ricapitoliamo eccolo qua 4 giugno 5 3 sotto primo colpo 50 rinnovamento ma a proposito del 50 di potoglio dell'acquisto ma così non va bene ecco qua perché se no non si riesce un pochino tempo materiale 53 90 era su torino venezia genova milano ok parliamo di 10 ed è venuto fuori coincidenzialmente come di vero sull'arvuta di milano e gianni adesso sono in diretta ti dico dopo un saluto a gianni da venezia quindi quegli opuscoli come vi ho detto sono in offerta poi vediamo un attimo qua qui c'è in alza vediamo un po' solo un secondo sei grande professore grande e unico grazie un saluto anche a te poi in diretta io vi regalai se vi ricordate i due ambi sulla nazionale 66 69 che è venuto fuori su tutte le ruote e poi c'era la quartina 66 69 48 84 che è venuto fuori sul lavoro di genio ma poi era colpito il top super con 28 58 come vi ho sempre la condizione della triade perfetta abbiamo quattro tipi di giocare diversi una alla volta uno li fa è sempre che vengono pure quindi non ci può fare nient'altro che piacerebbe vabbè ci prepariamo a domani sera sperando che ci possa essere un altro bubù da leone è tutto un saluto a tutto io vi ho i papro di youtube ciao 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 ciao